ok vai bravo wow vai bravissima buongiorno a tutti oggi siamo in compagnia di Valentina ed è qua per fare un controllo generale la schiena riferisce ai dolori sia dal cervicale che dal lombare vedremo un attimino qual è la causa del problema e cercheremo di liberarla allora Valentina girati verso la finestra ti sposto i capelli perfetto quindi fai sport giusto? si quando imparessero da quanto tempo? due anni prima di questo facevi qualcos'altro? danza classica moderna? tutti tipi flamenco dove? a dassi i dolori sceglie più di mattina più di sera? è pomeriggio quando esco anche la sera quindi pomeriggio sera la mattina ti svegli che non hai dolore ma a volte la cervicale ok mal di testa? ok anche questo da sempre? si no dalla terza media perfetto quindi un pelo indietro col sedere bravissima piega il collo in avanti brava e giù con la schiena piegati in avanti esatto? torna su giù e su braccia dritte spingi verso l'alto le braccia spingi verso il basso spingi verso il fuori spingi verso il dentro ok mano così spingi in alto la coscia anche questa fuori la gamba così vado fuori così si brava stop e anche questa ok brava ti adeni bene? brava ok allora gira il collo a destra così vai sei già scrocchiata da sola hai visto? dimmi cosa vedi di me mano mano gomito mano gomito spalla mano gomito spalla mano gomito spalla ok vai a sinistra ti sposto i capelli stessa domanda mano gomito va bene vieni a pancia in giù testa nel buco e braccia dietro a lungo i fianchi dimmi se hai male quando ti schiaccio sei un po' rigidina qui hai dolore? più o meno qui? 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 sì più qui o più qui? più qui più qui o più di qui? più di qua ok se tiro hai sollievo non senti nessun beneficio nessun beneficio se tiro così hai sollievo nessun beneficio nessun beneficio se tiro così hai sollievo nessun beneficio nessun beneficio ok è tutto bello meccanico devo liberarti dappertutto sei contenta? benissimo allora elasticità ce l'hai buona fai stretching da ballerina se non ce l'hai tu non balli più? no basta finita la carriera ballerina allora pancia su vai braccio lungo i fianchi mano verso l'alto palmo verso l'alto no così guarda ah così bravissima morbida morbida se comprimo qui è dolore? no se comprimo qui è dolore? no mangi bene mangi male? fatica domanda bene? sempre stessi orari fai cosa so colazione pranzo cena qualche spuntino ok male in questo punto? più o meno male in questo punto? no se tiro hai dolore? ah c'è l'icola ti faccio alzare la gamba così brava giù se ti comprimo la testa ti faccio alzare la gamba è pesante o più leggera di prima? pesante ok giù se invece tiro verso di me alza è più pesante o più leggero? leggero ok sei pronta che ti scrocchietto un po'? vai non vedevi l'ora tu di questa cosa vieni più vicino a me braccio braccio prenditi le spalle così inspira fuori l'aria wow wow inspira fuori bene ok mettiti sul fianco perfetta vieni più giù 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 scendi 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 ok più vicina perfetto un braccio me lo metti qui gamba la pieghi e la mettiamo così questa è la raddrizzi e me la porti un po' fuori perfetto braccio lo dai a me giù la testa stai super morbida brava dentro bene l'aria fuori ok fianco da questo lato eh che si eh adesso ti metto a posto io vieni più vicino così così testa stavolta così inspira e fuori l'aria pancia su ok che scarpe usi con tali quella lì allora anche qua farà dei rumoracci eh non ti spaventare ok giù sei pronta sì vado vai molle 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 brava ah che meraviglia te l'avevo detto non lo facciamo mai giusto giusto allora mano dietro il collo bella morbida eh come hai fatto fino adesso morbida brava inspira fuori l'aria ok mano dietro il collo morbida morbida inaspira fuori ok morbida 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 ok ci siamo seduta gambe di qua non è rimessa benissimo eh immaginavo allora mano sui fianchi adesso stai bella rilassata con le spalle quando te lo dico io mi dai un colpo all'indietro con il gomito deve essere un colpo molto forte e molto veloce vai brava pronta vai bravissima commenti di oggi però la chiave forza giusto braccio dritto spingi in alto spingi in basso ok dolore le mani quando fai allenamento non so l'athmachine e ti fa male questo punto no qua sotto dopo tante ripetizioni o subito tante ok da quanto questo nell'ultimo periodo o da sempre nell'ultimo periodo hai fatto hai preso colpi al braccio hai preso colpi al gomito no ok ti risposte capelli eh gira sinistra dimmi quanti capelli ha sotto i raso gira sinistra bene dimmi cosa vedi di me mano gomito mano gomito spalla mano gomito spalla viso mano gomito spalla ottimo torna pancia in su piega questa gamba stai molle 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 dimmi se hai fastidio perfetto perfetto c'è tutto di nuovo dai che abbiamo finito sei stata bravissima normale ok inaspira ed espira inspira ed espira inspira ed espira inspira ed espira perfetta domani avrà un po' di fastidio che si assisterà un po' tutto da dopodomani migliorerà molto non ti tolgo niente come esercizi come cambiamenti perché non è solo bloccata non hai problemi particolari quindi basta continuare a allenarti e brava girati verso la finestra spalla sinistra giusto? si ok in che movimento ti fa male? alzata lateralmente in adduzione se comprimo questo punto è dolore? senti tensione se comprimo questo punto? anche se comprimo qui? prova a muoverla così è peggio o è meglio? meglio così è peggio o meglio? uguale uguale vai un po' meglio un po' meglio era meglio questo? si ok da quanto stai così? un momento a te mezzo ti sta allenando? sei ferma? ferma dal mio tetto ok colpi non hai perduto? male qua? tensione male qua? no ok vai giù a toccare la punta dei piedi? torna su mettiti seduta al centro giro al collo a destra torna al centro adesso gira ancora a sinistra dimmi cosa vedi di me? mano gomito mano gomito spalla mano gomito spalla viso spalla vai a destra viso ok quindi c'è anche un deficit in rotazione dobbiamo correggere anche questo piega il collo in avanti giù torna su male qui? no male qui? no tieni il braccio in questa posizione dritto spingi verso l'alto dolore? si spingi verso l'alto dolore? no spingi verso la tua spalla dolore? no se schiaccio questo punto si riflette un dolore lungo il braccio o non senti niente? no niente se schiaccio questo punto? no ok pancia in su mano? no no senti tensione stretching fine? si fai un bel schirone fuori e ancora allora vuota l'alina e pancina stai mangiando bene? stai mangiando male? ho fatto una settimana a pancina però non so ok stai mangiando bene? inizierò il pasticchio 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 un bel respiro fuori un bel respiro male? no qua è dolore? no qua è dolore? qui? no qui? no fastidio ok gira sul fianco di qua vieni vicino qui la gamba lo deve trovare fuori fianco destro ce lo fanno dentro l'aria fuori dentro fuori dentro ok vieni qui braccia fuori sulla testa dentro fuori dentro fuori male male qui? male qui? se comprimo qui questo scende o uguale? scende questo rimane uguale o scende? uguale ok morbida 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 vieni un filo qui qua mano dietro il collo dentro l'aria fuori seduta seduta un po' più in alto quando lo dico io mi dai una gomitata verso l'indietro pronta vai muovere inizia meglio? si ok adesso sciogliamo un po' la parte muscolare devi fare molto stretching in questi giorni così che tolta la la disfunzione meccanica il muscolo deve un po' di elasticità e togliamo un po' di problemi non 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 ma non 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 Ruota un po', inclina, appoggia la testa, brava, more again. Ruota a sinistra, dimmi cosa vedi di me. Ok, molto bene. Adesso gira lentamente a sinistra, stop, gira lentamente a destra, ok. Pancia in su, stai morbida, acqua leggermente la bocca, poco poco, brava, molle, inspira, fuori. Seduta. Braccia dritte, spingi in alto, spingi giù, spingi fuori, spingi dentro, ok. Vedi quella bloccata. Adesso vai con il braccio dritto, vai verso l'alto. giù, su, giù, su, e giù. Torno indietro. Ok, prova a muovere un po' il braccio, dimmi se lo senti un po' più libero. Sì. Ok. Ti ho liberato tutto. Devi fare un po' di allungamento prima di partire con i pesi. Sì. Quindi allunga molto, dedicati allo stretching e poi ci riaggiorniamo, dovrebbe essere tutto a posto. Come possiamo notare a livello posturale, lei ha una anteposizione di collo abbastanza ampia. Questo per colpa di o una trazione della catena anteriore o una disfunzione della lingua. Adesso controlliamo, vediamo un attimino cosa andrà a togliere. Sembra abbastanza nella norma. Dobbiamo correggere un po' dei difetti biomeccanici. Ti chiedo, Elisa, di guardare sempre la finestra, brava, di piegare il collo in avanti e andare giù con la schiena e toccarti la punta di piedi. Torna su. Hai dolore a scendere? Tira un po'. Dove? Parte posteriore. Ok. Mi fai un bel respirone. Fuori. Ancora. Va bene. Allora. Vieni seduta al centro dell'elettiva con le gambe di là. Qua ti fa male? Un po'. Qua ti fa male? Molto meno. Questo scende come dolore o aumenta o rimane uguale? Rimane uguale. Sceglie. 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 Ok. Gira il collo destra. Ok. Hai un po' di ipomobilità a livello meccanico. No. Vuol dire che certe strutture si stanno muovendo un pochettino di meno. Questo potrebbe dipendere o da contratture muscolari oppure realmente la struttura meccanica si muove poco e non liberare così. Sceglie. Cosa fai come sport? Atletica. Ok. Hai difficoltà in qualche gesto tecnico? No. Ti sentirò. Ok. Ho poca mobilità sul mic. Quanto? Destra o sinistra? A destra. A destra. Vieni a pace in su, con la testa lì. Mi siede dove? Tira un po'. Dove? Qua? Sì. Ok. Mi siede dove? Sì. Sì. Sempre qua. Modivissima. Giù. E unisci i tardoni. Spingi con il ginocchio verso l'interno. Stop. spingi verso l'esterno, stop, giù questa, quindi la gamba così, resisti alla mia spinta, tu spingi allo giù, tu resisti, giù, resisti, giù, dà la forza molto bene, quante volte tutti i giorni, tutti i giorni, anche weekend, tutti, 7 su 7, forse ho giù, il giorno di riposo dopo un po' di settimane di gara fuori, ancora, fuori, fai stretching? si, allora cominciamo a liberare un po' di cosette, mettiti seduta con le gambe verso la scrivania, vieni, un po' qui dietro posso vedere, sentirai rumore, non spaventarti che non fa male, stai immobili, bravo, strano? abbastanza, pancia in su, vieni più vicina, stop, giù la mia spinta, perfetto, anche qui sentirei rumore strani ma non fanno male, ti sentirei cadere l'allettino a casa, ok, inspira, fuori l'aria, ята, giù la gambe sul spinta, gira su questo fianco, andiamo in piccina, come la prima scala martirissima, così ispira, fuori vieni un po' più qua, bracciale ispira, fuori ispira, fuori mettiamo l'olio del collo, su e la nuova e l'olio, fuori studi giusto? si cosa fai? scelzo motore traumin durante lo sport negli anni non ne avuti? ma ho anche stato la famiglia quest'anno facendo uomo di siepi e poi in tua parte pubagia pubagia, ok si, e un anno mi si è bloccato un ginocchio e non si è mai capito il perché in che senso? un giorno facendo delle salite abbastanza corte ma rapide si immaginato sei tipo bloccata non sono riuscita a camminare per un attimo e quanto è durata questa cosa? cosa? quanto è durata? in un pari di minuti poi si è bloccato dimmi se vuoi te no 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 Le scarpe ogni quanto le cambi? Dipende, 300-400 km Pancia in su Ti accorgo molto buono qua, questo è positivo, ti sta venendo molto bene Ti consiglio intanto di staccare un attimino? Anche due giorni? No, oggi ho fatto un giorno di riposo, poi staccherò realmente una settimana Ah ok, perfetto C'è la bella moglie È la brutta vita delle attività di mezzo al mondo Ci veniamo tutto l'anno, è difficile staccare Ah certo Alimentazione e mangi bene? Sì, mangio di tutto Non mi servono nutrizioni di starota Ok Io mi sento l'ora Morbida Morbida, 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 brava Giù Allora, se comprimo qui Hai dolore? No Se comprimo qui? No Se comprimo qui? Un po' fastidio Fastidio Qui? Un po' di meno Ok Qui? No Qui? No Sì Un po' che fastidio si scelta Se schiaccio questo punto e ricomprimo qui Scende il dolore, aumento o romano uguale? Scende Scende Se comprimo qui e rischiaccio qua Torna come prima? Un po' Ok Così va via Fuori Ispira Fuori Ispira Meglio? Sì Ok Seduta Gambità Allora, facciamo qualche test e vediamo se abbiamo liberato tutto Ruota al colla sinistra Ruota al colla sinistra Ruota al collo a destra E qua ci siamo Piega il collo in avanti Piegati in avanti Torna su Giù Torna su Fammi tre veri respironi ben profondi Vai Fuori la bocca Uno Due Vai Perfetto Paraccia dritte Guarda me Spingi con tutta la forza che hai verso l'altro Vai Verso il basso Verso il fuori Verso il centro Perfetto Giù dalla mobila Vieni un po' quindi devo sedere Braccio a me Guardati a me Morbidissime Ok Allora ti ho corretto tutte le disfunzioni che ho trovato Le disfunzioni sono quelle Proprio quelle alterate funzioni della struttura Quindi dove c'è lo sovraccarico Ho liberato tutto E Liberato la meccanica Il muscolo poi si va a rilassare Lo butti fuori con la bocca Così arrumi sia questa parte che questa parte qua Da qui andrai un po' più dritta Fuori col pettorale E colla un po' più indietro Ok Ok Il resto devo dire che stiamo sapendo Grazie Anisa Iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video Mettete un bel mi piace Iscrivetevi al canale